Presidente, la stampa estera italiana è titolato da Ronaldo Assimi, un commento? Niente, è un ragazzo, è il gigante buono che quando viene chiamato, in ogni momento che viene chiamato dà sempre il suo grande contributo. Lo ha fatto l'anno scorso, quest'anno si sta rilevando un elemento importante anche nella parte finale del campionato. Ha realizzato due rete importanti, sia con la Juve in casa, ha fatto quel magnifico gol, ma anche un gol di notevole spessore, quello a Udine. Ha contribuito a far fare il secondo gol a Faraoni, per cui ce lo teniamo stretto il gigante.